Una crisi è sempre un'occasione straordinaria. Paradossalmente è il momento migliore per guardarsi negli occhi, trovare gli stimoli, rialzarsi e ritrovarsi. L'Avellino non solo può farlo, ma ha anche l'obbligo di svoltare in una partita sulla carta abbordabile ma significativa. Deve farlo perché a Potenza questa sera ci saranno 450 tifosi che, nonostante il turno infrasettimanale e la trasferta serale, saranno al Viviani. Pazienza dovrà avere l'ambizione di continuare la striscia positiva fuori casa e cancellare al contempo i fantasmi di domenica. Lo dovrà fare innanzitutto trasmettendo serenità alla squadra e non sarà semplice considerando che molto probabilmente il primo ad avere la testa a carica di pensieri sarà proprio lui. Il 3-5-2 dovrebbe essere il modulo di partenza con Ghidotti in porta, la linea 3 composta da Cionec, Rigione e Frascatore. A centrocampo Ricciardi e Tito sugli esterni, De Cristofaro e Armellino con Palmiero che tornerà in cabina di regia. In avanti la coppia Sgarbi e Gori con il Toscano che tornerà dal primo minuto approfittando del turnover. Non sarà disponibile Jacopo Dall'Oglio che si è fermato in rifinitura per un problema muscolare, mentre dalla panchina tanto Patierno quanto soprattutto Marconi cercheranno chance in corso d'opera. La speranza è che si riaccenda la luce, che si porta a guardare al futuro con maggior ottimismo e che da domani si riveda splendere tra le nuvole qualche sfumatura dell'arcobaleno.